eccoci buongiorno stiamo di segnare da sammattina ci siamo svegliati molto molto presto perché da 3 la mattina e non si addormentavamo più piccoletto si sentiva riposato e non voleva più dormire e ultimamente è così perché pomeriggio non dormi come solido due e mezza tre dormiva pomeriggio adesso non lo dormi pomeriggio allora va dormi la sera e più presto e niente e si sveglia la mattina presto alle 3 o le 4 e 5 stavolta alle 3 e niente non si è addormentato più stiamo giocando vero amore stavamo fatti pure colazione a colazione siamo fatti alle 6 e mezzo mamma adesso voglio pulire devo pulire meglio questo lo fai tu vai pulisci tu dai ok leviamo sto rosso e giochiamo un'altra volta lo scriviamo un'altra volta sulla facciamo ok ti piace disegnare con mamma la mattina presto ti piace disegnare che colore prendiamo giallo dove giallo giallo dove giallo ecco giallo a facciamo sulla gialla a facciamo sulla gialla ok fanno giallo sulla gialla dai o io tappo ok facciamo sulla gialla ancora sta disegnare con tutte e due mani una volta con la destra una volta sinistra e ancora non si sa che la fine quale mano usa di più perché la gamba sempre gioca con gamba sinistra quando gioca valone invece mentre mangia certe volte usa sinistra certe volte destra ma più usa sinistra e vediamo però usa anche destra per questo può essere che ancora cambia che ancora non è sicuro che è mancino che usa la destra vediamo come va eccoci ha pulito bravo adesso facciamo con colore blu che ne dici nero e blu nero e blu nero e blu ok tutti i tre colori volete ok granted ok e ti posso aiutare a fare un primo cerchio eh faccio io uno primo e tu lo fai tutto dietro di me allora aspetta aspetta ma la c'è l'ha cosa ce l'ha cerchi ah ti porto un cerchio ah vedi come è intelligente prendi un cerchio ecco già pronto cerchio eccoci cerchio ok e li metti qua un cerchio prendi una prendi un colore vai e vai sopra e dobbiamo fare così e fai tu ecco vedi fai un altro e facciamo il copaleno di sopra di sopra devi andare no no sopra qui ecco e fai con un altro colore e esci al copaleno prendi un altro ok aspetta mammi si ma vedi reggi ecco vai vai con un altro colore sopra 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 vai e in sopra in su Samy in su Samy no in giù in sopra ah tu vuoi fare cerchio vuoi fare cerchio o vuoi fare al copaleno che vuoi fare al copaleno e al copaleno devi fare così vedi e fai adesso con un altro colore oh sì taglio rosso rosso vai vai con rosso bravo aspetta mammi che ancora con l'altro non l'ho chiuso va bene ok l'ho chiuso vai sopra di altro cerchio e vai vai in sopra qua in sopra devi fare lo stesso cerchio così oh come arco baleno vedi bravo e fai con un altro colore adesso con blu uguale un cerchio un arco sì blu e poi dopo nero fai blu nero tutti i colori dai ok ok vedi e fai cerchio vedete adesso va con la mano sinistra ecco bravo cerchio bravissimo cerchio e ce l'hai ragione cerchio ok e adesso fai con un altro colore nero 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 sì rego vai mamma mia che belli cerchi cerchio e un altro cerchio bellissimo ma finiamo il nostro arcobaleno sì allora dobbiamo fare pure un altro cerchi sì vai forse ma vai io devo appare ok vai blu ok 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 prendo e come vedete è cambiato la mano e adesso faccio la destra oh no ha le lette bello ha le lette eh sì ha le lette e cerchio sì va bene e facciamo pure arco questo è un arco facciamo pure arco no no fai solo cerchi è belli sti cerchi fammi ci allora un cerchio pure rosso ma tu sei un gattino un gattino bello mio eccoci che bello gattino abbiamo e dove vuole andare sto gattino e poi andiamo a lavorare e poi andiamo a lavorare eh oggi mi aiuti a lavorare dove abbiamo un sacco di cose da fare aiuti a mamma dobbiamo pure fare spesa oggi va bene sì è bello ok 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 apriamo la macchina aspetta mammi ecco mamma ti fa aprire la macchina e il gatto ci mette in macchina uno due tre via cosa piace a questo gatto? questo ma costa un po' tanto e come si fa? foto come si fa? è bello è bello è bello e allora che prendiamo questo oggi e domani non compriamo vero? solo oggi domani ci facciamo pausa e dopo domani compriamo va bene? no vorresti comprare tutti i giorni qualcosa vero? sì allora prendiamo una cosa più piccola e ogni giorno una cosetta più piccola o come facciamo? ti piace tanto? allora mi merito un bacetto? mmm e allora ok dai allora gatto ha imbrogliato la mamma per comprare qualcosa di bello vero? sì allora fai bravo oggi vero? e mangi tutto pranzo bene bene gattino vero? sì ok mamma mia che bello regalo ti sei comprato oggi e allora dobbiamo mangiare oggi tutto pranzo bene bene va bene promesso sì ok andiamo alle casse ok vai non è che ti sto vizia troppo sa? no no?